Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per una commedia teatrale che è portata proprio qui nel castello di Savuto inaugurato da pochissimo in compagnia proprio della regista, nonché anche coreografa, la Sofia Lavinia Amisic, giusto? Sono riuscito a pronunciarlo bene. Allora, questa commedia si chiama Tango Blio. Io ho un attimo documentato la cosa, mi sono un attimo documentato e a quanto ho capito è un sogno, una visione un po' onirica di questo poeta, se non ricordo male, che comunque è un insieme di musiche di Pastor Piazzolla, se non ricordo male, e di parti, diciamo, recitate di... Orasio Ferrer e Borges, che è un poeta nazionale argentino importantissimo. Certo. Perché avete scelto, diciamo, di rappresentare questa commedia? È una commedia unica? L'hai ideata, pensata? Perché l'hai deciso di metterla, diciamo, in scena? Diciamo che è una prima assoluta questa commedia perché la combinazione di musica e testo non è mai stata avvenuta, fatta prima di adesso, in questo modo, con questa combinazione. Il protagonista è un signore ipovedente che ha raggiunto la cecità e attraverso i suoi ricordi ricrea in scena, quello che vediamo appunto, è il caffè, che lui frequentava con i personaggi tipici del posto. E in questi ricordi, sempre, diciamo, per sprazzi che sono riuscito a recuperare, anche perché non l'ho vista, ma questa sera starò qui a vederla attentissimo, ci sono anche dei richiami alla vita, diciamo, di tutti i giorni. Mi pare che c'è una scena addirittura di una violenza. Diciamo che il ballo passionale, in questa scena che lei ha citato, diventa quasi violento. Non raggiunge del tutto la violenza, ma comunque c'è una donna che è vittima di violenza. E poi non cadrà del tutto, ma si rialzerà con la forza femminile delle altre donne in scena. Altre donne in scena. Ci sono grandi nomi che hanno partecipato, diciamo, ad altre, diciamo, esibizioni, hanno collaborato con grandi nomi. Lei stessa, diciamo, ha una scuola alle spalle abbastanza pesante, direi io, dopo studi veramente prestigiosi che ha svolto sia italiani che all'estero. Questa scelta, io dico, qui nel territorio di Cleto, è anche un modo per rivalutare, non solo il territorio, ma soprattutto la figura del teatro a livello locale? Sì, diciamo che questo spazio scenico è eccellente perché permette di far rivivere uno spazio che sennò magari viene utilizzato poco e attraverso l'arte sicuramente viene valorizzato. L'entroterra Cosentino è un paesaggio ricco di ruderi e spazi che non sono valorizzati a sufficienza. Ecco perché abbiamo pensato di portarlo in giro, un po' per riscoprire, scusi, un po' per riscoprire gli spazi e un po' per farli anche rivivere. Assolutamente. Tra l'altro la parola tango-ublio dà l'idea di qualcosa che si perde e si ritrova però allo stesso tempo perché non avendo ancora visto questo spettacolo teatrale la parola stessa mi emozionava, mi faceva riflettere sul fatto che siamo tutti, diciamo, con un tango-ublio forse dentro di noi alla ricerca di qualcosa. Sicuramente tutti noi siamo ricchi di ricordi e di sogni. Questo fa sì che cerchiamo di portare avanti la nostra vita su una strada e chissà che i nostri sogni non siano proprio quella strada che ci aiuta a raggiungere la felicità. Ecco tango-ublio. Perfetto. Io a questo punto ringrazio Sofia Lavinia Amisi, ci dicevamo regista e coreografa di questo spettacolo, di questo spettacolo teatrale che si chiama tango-ublio che comunque non è il primo ma ce ne saranno appunto altre rappresentazioni, giusto? Certo, è previsto un tour nel territorio cosentino e anche fuori da Cosenza. Quindi invito tutti gli amici web ascoltatori a informarsi sulla pagina web, insomma che sicuramente ci sarà, io poi la mandarò in sovraimpressione e di vedere lo spettacolo tango-ublio perché è una ricerca di qualcosa che è dentro di noi ma che sicuramente è frutto di una ricerca sicuramente artistica e stilistica della regista e vi ringrazio appunto dell'ascolto che ci avete dato. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cleto. Grazie a tutti.